Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Compra l'auto di un fanese con un assegno falso da 18.000 euro denunciato un cinquantenne pugliese Gli insegnanti del Battisti non vogliono perdere l'autonomia e propongono di portare il bienio del Cecchi nella sede di San Lazzaro Il comune di Fanno si aggiudica all'Oscar per il bilancio 2015 Parcheggi Rosa anche nella città della Fortuna con 20 posti per donne in gravidanza e genitori con neonati Installate due nuove pensiline per le fermate autobus di Sant'Orso e della zona Trave Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia La polizia stradale di Pesaro ha denunciato un cinquantenne pugliese per truffa e falso L'uomo avrebbe acquistato un'auto di una fanese consegnandogli un assegno da 18.000 euro falso Occorre prestare molta attenzione nella vendita della propria automobile specialmente quando non vengono utilizzati canali ufficiali e conosciuti La disavventura è capitata ad una signora di Fano che si è rivolta alla polizia stradale di Pesaro per denunciare una truffa subita La donna ha riferito agli agenti di essere stata intestataria di una Volkswagen Touran e nel mese di giugno di aver deciso di venderla inserendo il classico annuncio sui maggiori siti di vendita Passato qualche giorno poi ha ricevuto una telefonata da un signore che si è proposto per l'acquisto Sono seguite le presentazioni di rito e l'esame dell'auto poi l'uomo si è determinato per l'acquisto programmando d'intesa con la venditrice l'atto di vendita e il passaggio di proprietà Ma è stato così tempestivo anche nel consegnare il compenso con un assegno di 18.000 euro Tuttavia al primo tentativo di monetizzare l'incasso il titolo di credito apparentemente originale è risultato completamente falso e in alcun modo collegato a conti reali Avviata un'indagine alla Polstrada è risalita all'autore della truffa Si tratta di un cinquantenne pugliese senza fissa dimora e irreperibile sul territorio Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che era già stato arrestato in Germania qualche mese prima mentre tentava di vendere un camper anche in questo caso provento di truffa Gli agenti però lo hanno rintracciato in una provincia romagnola dove è stato denunciato per truffa e falso ma le indagini proseguono perché potrebbero essergli attribuiti ulteriori reati della stessa natura Il veicolo della Fanese invece è stato ritrovato dalla squadra investigativa in Austria dove sono state avviate le procedure per consentire la restituzione del mezzo alla legittima proprietaria Scontro frontale la notte scorsa tra due auto poco dopo la mezzanotte in via Galilei a Senigallia coinvolti nell'incidente il consigliere comunale senigallese Mauro Gregorini è un Fanese di 38 anni che a bordo della sua Opel Zafira ha invaso la corsia opposta per evitare un istrice inevitabile l'impatto con la Fiat 500 del consigliere comunale che sopraggiungeva in quell'istante nel senso opposto ambedue gli automobilisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 ad avere la peggio è stato il Fanese trasportato al Torrette di Ancora mentre il consigliere è rimasto ferito alla testa sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della stradale per i rilievi di rito gli insegnanti dell'istituto Battisti di Fano lanciano una proposta per trasferire l'istituto Agrario Cecchi al loro edificio sentiamo il servizio di Simona Zonghetti l'istituto Battisti non vuole perdere la propria autonomia confluendo in un solo polo didattico di carattere tecnico che riunisca anche Olivetti e Volta visto il piano della riorganizzazione scolastica si chiedono come possa un solo dirigente su più istituti e su plessi diversi garantire un miglioramento dei servizi già provati da continui tagli ministeriali riforme e controriforme i docenti lanciano una proposta che non solo metterebbe in sicurezza la scuola ma permetterebbe anche un risparmio economico il suggerimento è quello di trasferire il bienio dell'Agrario Cecchi di Pesaro nella sede succursale del Battisti a San Lazzaro di Fano qua giù abbiamo aule vuote laboratori di prim'ordine palestre tutte le strutture necessarie per una scuola purtroppo sono sottoutilizzate quindi non capiamo perché bisogna spendere tanti soldi per riaprire il CODMA quella struttura che ormai è chiusa da anni e sicuramente avrebbe bisogno di parecchi soldi come investimento quando qua giù abbiamo delle strutture pronte a costo zero costo zero per tutta la collettività per quanto riguarda il piano studi inoltre sia il bienio del Battisti che quello del Cecchi hanno materie per la quasi totalità uguali e quindi nell'istituto fanese sarebbero già presenti anche i professori la nostra non è una proposta contro qualcuno noi vogliamo la collaborazione dell'istituto tecnico agrario Cecchi per aprire solamente qui due anni poi nel triennio ci sono delle specificità che non ci appartengono quindi i ragazzi dopo aver fatto il percorso del bienio qui da noi andranno tutti al Cecchi ne avete già parlato con il sindaco con la provincia abbiamo fatto una proposta al sindaco in primavera non ci è arrivata risposta abbiamo avuto un altro incontro in ottobre però sembra la risposta sembra sempre che il cod ormai è andato troppo avanti ma non si capisce cosa vuol dire questo troppo avanti noi vorremmo solo che la collettività capisse che qui ci sarebbero le stesse opportunità a costo zero parliamo di maltempo da domani venerdì 20 novembre le marche saranno interessate da forti venti di Garbino proveniente da sud ovest con raffiche fino a tempesta in particolare nelle zone interne centro-settrentrionali della regione in montagna afferma la protezione civile regionale non si escludono raffiche di tempesta violenta ed ora parliamo di mobilità sostenibile buone notizie per mamme perché sono in arrivo nel centro storico di Fano i parcheggi rosa appunto a loro dedicati vediamo quali sono le strade interessate a questa novità Pesaro li aveva già adottati nel 2008 ed ora i parcheggi rosa arrivano anche nella città della fortuna gli stalli dedicati alle donne in stato di gravidanza e alle mamme con i nati al seguito possono consentire loro una migliore agevolata mobilità all'interno del centro urbano permettendo di parcheggiare senza difficoltà negli spazi appositi per far fronte alle necessità quotidiane negli esercizi commerciali negli ambulatori medici e negli uffici pubblici questi posti autoriservati non sono previsti dal codice della strada la polizia municipale cioè non può fare le sanzioni per l'occupazione abusiva di tali parcheggi per il rispetto di queste aree ci si affida esclusivamente al senso civico dei cittadini in questi giorni l'ufficio tecnico della viabilità sta lavorando per finire l'installazione in 16 zone della città di circa una ventina di stalli che ovviamente sono un passo avanti rispetto a quello che c'era fino a qualche tempo fa e quindi una grande risposta che noi diamo a questo gruppo di persone che hanno più bisogno di una mobilità più comoda sarà possibile trovare gli stalli rosa nel cortile dell'ex caserma Paolini in via Canale Albani di fronte all'UC Cinema al centro commerciale Usciane davanti la posta di Bellocchi in via Palmiero Togliatti nel parcheggio del pronto soccorso e guardia medica in quello del centro commerciale di Sant'Orso in via dello Scalo dietro alla stazione ferroviaria nel parcheggio di Viale Adriatico nel piazzale Gaetano Amendola in zona Lido ma anche in via della giustizia all'ex foro Boario di fronte allo Sport Park in via Largo Bella Riva e nel parcheggio degli ex carri di Carnevale in Viale 12 Settembre nel centro storico di Fano però sono state apportate ulteriori modifiche che riguardano la zona a traffico limitato perché la giunta fanese ha deciso di modificare le attuali fasce orarie stabilite dall'amministrazione dell'ex sindaco Aguzzi ripressionandola ad una validità di 24 ore su 24 la fase sperimentale dei correttivi infatti non avrebbe apportato alcun beneficio se non un aumento del traffico e dell'inquinamento l'assessore Fanesi inoltre ha risposto ad una segnalazione di un nostro telespettatore che ha voluto evidenziare il lavoro di rifacimento della segnaletica orizzontale in via 4 novembre ai lati di questa strada ci ha fatto notare sono presenti due piste ciclabili ed entrambi hanno la stessa direzione di marcia monte-mare che crea un disagio ai ciclisti che devono tornare indietro mi sono confrontato con gli uffici tecnici anche dopo il sopralluogo effettivamente inizialmente erano previste state previste due piste ciclabili lati della carreggiata in un senso e nell'opposto senso di marcia per le biciclette ma il codice della strada non prevede la possibilità di sistemare così la situazione nel senso che le piste ciclabili devono avere lo stesso senso di marcia dell'autovettura per sicurezza a meno che non ci sia una separazione netta ovviamente tra la pista ciclabile in senso opposto e il senso di marcia dell'autovettura quindi in realtà la situazione preesistente prevedeva appunto il diciamo due piste ciclabili nello stesso senso dunque l'ufficio intervenne anni fa a cancellare un'indicazione errata sin dall'inizio quindi la ditta attualmente ha fatto i lavori come previsto dal codice della strada e ha messo senso unico monte mare la pista ciclabile è un'assurdità mi rendo conto però è questo quello che prevede il codice della strada per quanto riguarda invece quello che potremmo fare potremmo prevedere nel 2016 di fare dell'attività per dividere diciamo una delle due piste ciclabili dalla carreggiata in maniera evidente con dei cordoli per poter permettere appunto i due sensi di marcia delle biciclette questo purtroppo è quello che prevede il codice della strada in una strada a senso unico ed ora parliamo di Oscar ma non quelli cinematografici perché Fano è tra i sei comuni d'Italia ad aggiudicarsi l'Oscar del bilancio 2015 l'assessore Carla Cecchetelli ha ricevuto a Roma l'ambito premio consegnato per essere riusciti a eseguire i nuovi dettami implementando meccanismi di contabilità analitica attraverso una metodica snella ed innovativa a ricevere il riconoscimento anche i comuni di Arzigano Formigine Pistoia Prato e Ro in provincia di Milano ed ora come promesso dall'amministrazione comunale sono arrivate le pensiline per le fermate degli autobus della zona Trave e di Sant'Orso Buone notizie in arrivo per tutti coloro che dovranno attendere il bus a Fano perché dopo mesi di lavoro si è arrivati al riposizionamento delle prime pensiline sulle otto previste dal progetto comunale la prima installazione è avvenuta in zona Trave un'operazione per la quale si è impegnato il consigliere comunale di Noi Città Barbara Brunori e che è stata preceduta dallo spostamento della fermata dalla zona dei cantieri dell'interquartiere ad un luogo più sicuro in prossimità della palestra Trave l'altra pensilina invece è stata installata in via divisione Carpazzi a Sant'Orso in occasione di questo riposizionamento abbiamo tenuto conto anche di un altro tema che è molto importante che è quello proprio del riuso e riutilizzo di beni che sono di tutta la città che attualmente essendo appunto in disuso erano stati oggetto di atti vandalici quindi erano proprio anche inutilizzati se vogliamo e rischiavano di esserlo definitivamente quindi grazie anche alla collaborazione dell'assessorato dell'ingegnere Santini e anche di Adribus che è stato prezioso perché se non fosse stato per lui che insomma anche a livello economico investivano nello spostamento di queste pensiline e nella riqualificazione non avremmo potuto farlo l'installazione è stata portata a termine dopo aver accolto le segnalazioni di diverse famiglie fanesi la pensilina di Sant'Orso era stata richiesta più volte dal comitato genitori finalmente dopo poca attesa rispetto a quello che mi aspettavo insomma siamo riusciti a ottenere la pensilina per i bambini perché la mattina effettivamente quando è verso le 7 un quarto sette e mezza si radunano sempre quella ventina di bambini che devono prendere l'autobus per andare in centro e sai il tempo comincia a diventare un po' inclemente anzi arriverà anche il peggio perciò piuttosto che lasciarli sotto la pioggia il vento il freddo una pensilina era la cosa più ricercata dai bambini nello stesso quartiere poi l'amministrazione comunale ha provveduto a creare due passaggi per diversamente abili per poter accedere da via Suncino al centro commerciale il signor Gennaro volontario della protezione civile la richiedeva da quasi sette anni dopo tanti anni il lavoro è stato fatto e ringrazio tutto il comune il sindaco gli assessori eccetera eccetera perché veramente è stato fatto un buon lavoro soltanto che ci dobbiamo dobbiamo dire che il senso civico qui in questo posto manca infatti non so se ha notato lì c'è una buca una macchina ci ha venuto su con la ruota e quindi non va bene sarebbe bene per completare l'opera metterci dei paletti due tre così è un lavoro fatto veramente a opera d'arte ed ora occupiamoci di sanità un ambulatorio di terapia del dolore in ogni presidio ospedaliero dell'azienda ospedale riuniti Marche Nord l'ultimo in ordine di tempo dopo Fano e Muraglia è quello attivato dentro lo stabilimento dell'ospedale San Salvatore a Pesaro ma ci sono anche altre novità per il nosocomio pesarese perché sono stati attivati altri due ambulatori uno per il posizionamento di accessi vascolari ed un altro legato alla nutrizione artificiale ospedaliera e un altro lutto ha colpito la comunità fanese scompasso stamattina all'età di 88 anni Sergio Maggioli già tecnico radiologo presso l'ospedale di Fano apprezzato numismatico ed esperto fotografo ha realizzato negli anni un minuzioso archivio con immagini di Fano dell'Ottocento e dei primi del Novecento pubblicando a riguardo diversi libri e realizzando mostre fotografiche molto belle le esegui verranno celebrate sabato 21 novembre alle ore 10 nella chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro ed ora occupiamoci di università e mondo del lavoro che sono entrati in contatto nei giorni scorsi presso l'Università di Urbino si è tenuto il Career Day un momento di concreto contatto tra gli studenti e il mondo delle imprenditorie si è tenuto nei giorni scorsi nella sede di Palazzo Battiferri la quattordicesima edizione del Career Day dell'Università di Urbino ormai entrato nel DNA dell'Ateneo della città Ducale un'opportunità non indifferente per i giovani i quali entrano in contatto diretto con importanti realtà imprenditoriali locali ed internazionali grazie alla possibilità di presentarsi a dei possibili datori di lavoro consegnando il proprio curriculum presso gli stand aziendali e sostenere colloqui con i referenti delle risorse umane come sottolinea il professor Tonino Pencarelli è un primo momento della verità per misurarsi professionalmente col mondo del lavoro è un evento che sta funzionando bene abbiamo circa un migliaio di partecipanti partecipanti i quali vengono anche preparati a questa iniziativa con dei laboratori di orientamento al lavoro partecipanti che vengono di solito con dei curricula e che quest'anno possono addirittura essere direttamente coinvolti in un percorso di selezione diretta e mirata del personale effettuata da sei importanti brand nazionali e locali uno dei career day in Italia che secondo me è organizzato meglio sia per il volume di candidati di giovani che vengono al desk sia per un discorso qualitativo il polo didattico all'università di Urbino prepara a mio parere molto bene le persone sia da un punto di vista linguistico ma non solo due giorni non solo di incontri e colloqui con importanti aziende ma anche di laboratori per le aree estero start up e carriera ai quali si sono iscritti oltre 600 ragazzi da tutta Italia noi abbiamo cercato con questa iniziativa di fornire tre diciamo uno scenario su tre argomenti base che sono la carriera quindi la possibilità di trovare un lavoro all'interno di un'azienda la possibilità di trovare anche dell'opportunità all'estero ma anche di poter avviare un'attività in proprio quindi abbiamo cercato di toccare questi argomenti sia all'interno dei workshop che si tengono nelle nostre aule ma anche con le aziende e le organizzazioni che sono presenti e che quindi sono in grado di fornire dettagli e informazioni utili ai ragazzi per come muoversi sul mondo del lavoro a rampicon sul pincio è il titolo del libro che l'ex consigliere regionale Roberto Zaffini presenterà venerdì pomeriggio alle 17.45 nella sala incontri di Palazzo San Michele a Fano Zaffini racconta il pincio degli anni 60 e 70 le avventure di un'infanzia vissuta sotto lo sguardo dei più importanti monumenti di Fano parte dei proventi della vendita del libro che costa 10 euro saranno devoluti all'Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti ed ora torniamo a occuparci della gara amatoriale di cucina Chef in the City che ha la sua prima finalista è la commerciante Lulietta Marco Lulietta Albania batte Italia con la commerciante fanese d'adozione Lulietta Marco è lei la prima finalista dell'edizione 2015 di Chef in the City l'unica gara di cucina amatoriale della provincia di Pesore Urbino giuria tecnica e giuria popolare composta dai clienti del ristorante sono stati in sintonia nel premiare l'antipasto della Marco per il gusto e la presentazione il piatto dal titolo Aurora Dorata un dorata con crema di porre patate con misticanze e funghi ha avuto la meglio su secondo preparato dall'impiegata pesarese Lisa Tomasucci il suo bottino del corsaro prevedeva un filetto di spigola cotta il cartoccio con patate finocchio cipollotto e pomodorini confit l'ho iniziato come un gioco e l'ho preso così alla leggera mi sono impegnata tantissimo però diciamo l'altra concorrente stasera era molto brava non cioè me lo aspettavo fino a un certo punto però dopo ho visto che tutti mi sorridevano mi hanno fatto i complimenti per il piatto e allora alla fine ci ho creduto e sono in finale sono felicissima Alisa invece non è restato altro da fare che ricevere un premio di consolazione mi sono divertita e ho anche imparato qualcosa di nuovo dai cuochi che ho incontrato per conoscere il suo avversario nella finalissima in programma per domenica 29 novembre alla Cascina delle Rose Lulietta dovrà attendere la seconda semifinale che si svolgerà tra Umberto Gennari e Chiara Sabati e fra poco più di un mese è Natale quindi occupiamoci anche di notizie adesso legate prima di chiudere vi mostriamo alcune foto scattate a Monbaroccio dove ieri mattina è arrivato un albero donato dalla città di Bolzano in occasione del mercatino di Natale vi ricordiamo che l'evento denominato è Natale Monbaroccio in festa prevede 6 giornate tra mercatini presepi incontri tipici nelle giornate del 28 e del 29 novembre e dal 5 all'8 dicembre quest'anno inoltre comuni e proloco della provincia si sono uniti per organizzare 18 manifestazioni per le festività natalizie la lista completa è possibile trovarla sul sito turismo.pesorurbino.it e questo era tutto per l'edizione di Occhio e le notizie di questa sera grazie per averci seguito sin qui il telegiornale torna se vorrete naturalmente domani sera alle 20 e 30 grazie e buona serata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti